Bisognava aspettare fino all'ultimo, ma poi anche per le Marche, dai padroni di casa, c'è stata l'esultanza sul podio dei campionati italiani assoluti indoor di Ancona. L'edizione numero 42 della massima rassegna al coperto andrà di scena nel weekend appena trascorso al Banca Marche Palace. Ha portato proprio in chiusura due splendide medaglie nella staffetta 4x200 per l'Atletica della nostra regione. Tra gli uomini, Argento per Avis Macerata con lo junior Lorenzo Angelini, Filippo Reina, Carlo Nardi e Marco Vescovi che corrono in 1.29.47 nella seconda serie, miglior tempo provvisorio. Nella quarta e conclusiva serie l'Aeronautica realizza 1.27.61 schierando in prima frazione Alessandro Berdini proveniente proprio dal sudalizio maceratese dell'Avis. Ma il quartetto marchigiano può comunque festeggiare il secondo posto dopo che su quello stesso anello nel 2006 aveva conquistato un meraviglioso oro assoluto. Gran festa anche in casa dello sport atletica fermo che con il suo quartetto femminile corre a prendersi il bronzo in 1.41.01 a soli 3 centesimi dal primato regionale assoluto con la junior Jessica Stortini Perez, la promessa Elaria Giretti e Chiara Natali, già argento una settimana fa ai giovanili e l'allieva Roberta Del Gatto, anche lei argento nei 60 ai giovanili. Ai piedi del podio anche Federica De Santis, esercito Montecassiano che salta a 13.04 nel triplo, gara in cui al maschile Edoardo Vanni dell'Asa chiude sesto con la misura di 15.63. Sesto posto anche per il campione italiano juniors di salto in alto Gianmarco Tamberi nella Bruni pubblicità Vomano che supera la quota di 2.18. Il banca Marche Palace, commenta soddisfatto il presidente del comitato regionale FIDAL Marche, Luigi Serresi, si conferma come contenitori di grandi eventi. La casa dell'atletica al coperto, ci sono stati miti nazionali tutti i fili settimana e 4 campionati italiani. Ospiteremo tra 15 giorni, dal 4 al 6 marzo, anche i tricolori master. Tra i risultati di valore citiamo il triplo femminile di Simona Lamantia che firma il risultato più significativo della seconda giornata dei campionati italiani indoor di Ancona, vincendo il salto triplo con 14.33 misura Chiauguaia, lo stagionale dell'Azzurra, confermando dal quarto posto nella gradatoria continentale stagionale. Triplo in copertina anche al maschile, assente Fabrizio Donato, vittoria da 17 metri esatti per Fabrizio Sghembri, carabinieri e conferma la settima piazza europea del 2011. Dietro il Bergamasco, bene anche Daniele Greco, del Fiamme Oro, secondo in 16 e 65. Al di sotto delle attese entrambi le finali invece dei metri 60. Tra le donne Emanuela Leverato, aeronautica, conferma il pronostico ma non va oltre un normale 7.44 dopo che in batteria si era prodotta in un più che significativo 7.36. In campo maschile arriva la sorpresa del successo di Michel Tumi, aeronautica 21enne Vicentino, che approfitta delle incertezze dei titolatissimi avversari tagliando il traguardo in 6.71. Dietro di lui Di Gregorio, Donati, Riparelli e Tomasicchio e Cerrutti.